Enzo Bresolin legge di Aldo Palazzeschi l'assolto Allor che i miei buoni fratelli m'avean due volte sepulto disse una voce io non so come il dove assolto mancanza assoluta di prove si ha perso tutte le porte si ha perso tutti i cancelli assolto io sono l'assolto miei cari signori e ora che sono fuori guardatemi bene in viso ho ucciso assolto è la mia professione che intendo bene di sfruttare dal suo lato migliore assolto appena uscito mi accorsi subito qual era il miglior partito fuggire nascondersi agli occhi della gente ma che sottrarsi alla sconcezza del dubbio che io rivesto ma che rivestirlo dignitosamente o con disinvoltura ma che niente niente esibirsi senza misura generosamente gli e perciò che io frequento le strade il passeggio i teatri il caffè come ogni altro uomo non assolto certe volte mi diverto poco certe altre molto né più nemmeno di lui o di te si sa che color che incontrandomi intrecciavan col mio bei sorrisi vedesti ora che visi che visi mi fanno e che voce sorprendo dai crocchi vedeste che occhi un innocente si discolpa è un farabutto lo stesso attaciuto ecco tutto attaciuto come un innocente attaciuto come un farabutto e gli errori questi sono gli errori i delinquenti sono tutti fuori entro per tempo in teatro prendo possesso della mia poltrona con molto sussiego mi volto mi chino mi spiego mi lascio a mirar giro giro con aria da dio e se certi visi si spostano resta inflessibile il mio per i primi 20 minuti lo spettacolo lo do io bella che stai puntandomi attraverso la lente dell'occhialino dimmi mio bel musino mi desideri innocente o mi desideri assassino un signore là dietro dei posti distinti macina l'esto fra i denti sul trono sul trono i briganti e un altro guardate che ghigna stasera facciaccia da galera quando salza il sipario divento anch'io un umile spettatore come lui negli entratti ritorno un poco attore e poi ancora spettatore come te come tutti gli altri e se dopo all'uscita qualcuno mi aspetta io esco pian pianino senza nessuna fretta poi vado al caffè finché c'è gente sveglia nella città resto a sua disposizione nessuno deve essere defraudato nella legittima curiosità sono un garantuomo nella mia professione e non crediate che io sia tardivo ad escire fuori al mattino ma che bisogna pensare che il mattiniero ha gli stessi diritti del nottambolo cittadino assolto può sembrare poco e può sembrare molto guardatevi bene in viso ho ucciso Enzo Brasolin a letto assolto di Aldo Palazzeschi al microfono punto it vi ringrazia per l'ascolto Grazie per l'ascolto!